oggi vi preparo una ricetta che prende un po' ispirazione dal carpione quindi il carpione era questo metodo antico per conservare il cibo si basava su degli aceti che andavano a disinfettare e conservare il cibo tendenzialmente si fa col pesce infatti oggi andrò a fare anche col pesce con una ricciola quindi la prima cosa che vado a fare è togliere la pelle e lo faccio marinare un pari peso di zucchero e sale prendo la placca sale e zucchero di canna va bene anche zucchero normale faccio un primo strato posiziono il filetto di ricciola e faccio la stessa cosa in superficie questa la lasciamo marinare per una ventina di minuti dopodiché ovviamente andiamo a sciacquarla e andrò a tagliare per procedere con il piatto nel frattempo il cipollotto tiro via ovviamente la parte esterna vado a tagliare in questo modo lo faccio marinare per una decina di minuti semplicemente in aceto di mele una volta marinata ovviamente la sciacquiamo la asciughiamo per bene vado a prendere una parte del filetto vado a tagliare dei pezzi piuttosto spessi ovviamente quando parliamo di pesce crudo dobbiamo sempre assicurarci che sia stato abbattuto questo punto inizio a condirlo prima di impiattarlo con un po di olio all'erba cipollina e dell'aceto affumicato a questo punto è tutto pronto e procedo con l'impiattamento una volta posizionato il pesce andiamo a bagnare con ulteriore aceto affumicato aggiungiamo la cipolla marinata aggiungiamo del passion fruit essiccato del peperoncino della misticanza e infine qualche goccia d'olio ed ecco qui un carpione rivisitato provateci alla prossima buon appetito